Siamo qui, diciamo, ci sono vari motivi, era, diciamo, sentivamo molto la necessità di scendere in piazza in una situazione politica del genere, con un governo che si sta creando da una coalizione di destra, di estrema destra. E' vivo e noto insieme a noi, e ma se idee non moriranno mai, e' vivo e noto insieme a noi, parlo delle istruzioni, un latino a solo dei padri, parlo delle istruzioni. Siamo in attività e un latino a solo dei padri, parlo delle istruzioni, un latino a solo dei padri, parlo delle istruzioni. Dici una cosa, guardate gli assurdo, guardate il primo dire, che non ci può morire, che non ci fa altro lavoro. che le politiquen, che fuori a vostro governo, che lo danno sociali, per la nostra moglie, per la nostra moglie, per la nostra moglie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.